Sì, sono Enzo Favoino, lavoro alla Scuola Agraria del Parco di Monza, un centro di ricerca che ha avuto un certo ruolo nello sviluppo della strategia della raccolta a differenza dell'organico e la promozione in generale della strategia del compostaggio in Italia. Abbiamo introdotto i primi modelli di raccolta differenziata nel lontano 1993 e abbiamo accompagnato tutte le sfide della crescita di questa raccolta, tipo l'estensione verso sud, l'esportazione all'estero e ultimamente anche l'aggressione degli spazi urbani.